va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio al microfono e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne lo stanziamento di 26 milioni di euro dalla regione abruzzo per gli interventi stradali nella provincia di teramo consentirà di garantire interventi in alcuni casi da oltre 10 anni attesi e il commento dell'assessore regionale Dino Pepe i finanziamenti potranno essere utilizzati per manutenzioni ordinarie e straordinarie compresi gli interventi volti a risolvere i danni provocati dal dissesto idrogeologico i quattro nuclei provinciali della forestale con il coordinamento del comando regionale abruzzo nell'ambito dei controlli su 15 centri ortofrutticoli hanno denunciato il detentore e produttore di un lotto di fragole che dall'esito delle analisi superava i limiti di legge di 100 volte per uno specifico antiparassitario fungicida i campioni di frutta prelevati dai forestali per le verifiche sono stati analizzati nei laboratori dell'istituto zoo profilattico sperimentale di teramo si tratta di pompelmi, arance, pesche, kiwi e limoni e hanno dato esiti rassicuranti gli altri sei campionamenti hanno fatto registrare valori molto al di sotto dei limiti massimi residui previsti dalla legge italiana che recepisce quella europea la forestale ha comunque sequestrato circa 1000 kg di frutta il pulmino per trasferirli dal centro celestiniano all'edificio di via Roma all'Aquila era pronto ma loro hanno innescenato una protesta poi rientrata con l'intervento della polizia momenti di tensione da parte di un gruppetto di migranti per lo più del Ghana, della Nigeria, del Senegal fuori dal centro celestiniano diretto da padre Quirino Salomone e da Pierino Giorgi quando hanno capito che di lì a poco avrebbero dovuto abbandonare la struttura di Santa Barbara per fare ingresso in quella recentemente ristrutturata di via Roma i migranti in sostanza lamentano il fatto che da una stanza con quattro posti retto e un bagno presenti nel centro celestiniano si passa a stanze da sei ad otto posti retto con un bagno nel primo caso e due nel secondo scatta l'allarme sanitario e l'ordinanza del sindaco di Ortona Salmonella arriva, Salmonella rinvenuta nelle acque del fiume Foro, vietato attingere dunque alle acque stesse il provvedimento del primo cittadino di Ortona, Vincenzo Lottavio, datato 10 agosto si è reso necessario dopo il riscontro di inquinamento da Salmonella in un punto a valle del depuratore riscontrato dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente durante i suoi prelievi Il modulo scaricabile sul sito del Comune di Chieti per quanto riguarda il servizio Mensa riporta le tariffe fissate dalla delibera di giunta che ha stabilito i rincari cioè 4,37 euro a pasto per i bambini non residenti o che vivono in famiglie con l'ISEE superiore a 25.000 euro Fino a giovedì 11 agosto, dice però il consigliere comunale d'opposizione Febo ai genitori veniva detto di pagare come l'anno scorso oggi però gli uffici dicono di attendere perché la giunta dovrà rimodulare le tariffe e di pagare quindi dopo il 26 agosto a Teate e Servizi invece fanno pagare con le tariffe nuove dunque l'opposizione al Comune di Chieti denuncia un caos per quanto riguarda le tariffe del servizio Mensa nelle scuole e teatine Proseguono a Pescara le proteste di residenti per rumori continui in strada fino a notte fonda provocati da sbicchierate e serate troppo alcoliche musica troppo alta che arriva dai locali gruppi di ubriachi che ciondolano, sporcano, urlano e fanno di tutto davvero sui marciapiedi secondo i residenti della zona di via Muzzi residenti che non mollano anche se sempre più sfiduciati per quanto riguarda soluzioni che possano venire accolte dal Comune così dicono i cittadini riuniti nel Comitato Tranquillamente Battisti che riunisce appunto gli abitanti della zona Dopo la mobilitazione dei residenti nelle scorse settimane anche l'Associazione Italia Nostra si oppone alla realizzazione di un edificio residenziale nell'area all'angolo tra via Pepe e via Davalos a Pescara dove insiste l'edificio recentemente divenuto sede del gruppo Ultras Pescara Rangers un tempo asilo e ritrovo sociale Ancora una volta a Pescara viene eliminato un pezzetto di storia della città che va via senza capirne il valore e il senso Si sottrae alla collettività, dice Italia Nostra, l'area verde con l'abbattimento previsto di alcuni pini di grosso fusto e un piccolo edificio che pur nella sua semplicità manifesta una certa qualità a firmare la denuncia con una nota e mimmo valente che è il presidente della sezione Italia Nostra di Pescara Riqualificare e valorizzare l'area di smessa dell'ex cementificio di Pescara concependo un modello culturale nuovo di recupero basato sul confronto e sulla condivisione del passato con il futuro e la sfida che ha lanciato il presidente della giunta regionale d'Alfonso in occasione del sopralluogo nell'area dell'ex cementificio di Via Raiale alla presenza del sindaco del capoluogo adriatico Marco Alessandrini del presidente del consiglio comunale Antonio Blasioli di quello della provincia Antonio Di Marco del deputato Gianluca Fusilli di tecnici comunali architetti riuniti per programmare il recupero dell'area Oggi è sabato 13 agosto e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon compleanno a Don Luigi Fortunato mentre ricordiamo che domenica 4 settembre alle ore 18.30 presso la parrocchia di San Domenico a Penne ci sarà l'ordinazione diaconale di Alessio De Fabrizis nella liturgia eucaristica presieduta da sua eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara, Penne siamo alle previsioni del tempo oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 19 a 25 gradi sulla costa e da 18 a 23 gradi nelle zone interne e venti deboli domani si prevede cielo sereno con temperature da 20 a 27 gradi sulla costa e da 19 a 26 gradi nelle zone interne e venti deboli dopo domani, lunedì 15 agosto si prevede cielo sereno con temperature da 20 a 29 gradi e venti deboli il mare è previsto poco mosso oggi e da quasi calmo poco mosso domani e lunedì ed è tutto per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne grazie e risentirci Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica di Radio Speranza Notizie a cura della città a cura della chiesa metropolitana di Pesara l'occhia e scuola le 100 g